6, scegliamo uno ma non per fare delle scelte personali, Luca3p.com e oggi come è stato è una base di partenza, perché sicuramente per migliorare nei prossimi anni che anziché 6 ce ne possono essere 12, ad usare che tutti fanno quello che fate voi. Spichiamo questo per l'importanza del progetto, l'importanza del discorso, la raccolta differenziata, l'economia circolare che sicuramente è vitale per l'ecosistema e ci può portare sicuramente a dare un futuro all'ecosistema, aiutare il pianeta per il nostro vincolo, però se tutti insieme facciamo qualcosa sicuramente possiamo raggiungere il futuro. Anche perché se mi posso permettere, lo chalet è uno dei luoghi più frequentati dal turista all'interno dell'albergo e il passeggio, quindi se si trova bene anche il passaparola penso che sarebbero altre persone. Certo, sicuramente una buona immagine sia per i locali, sia per i turisti, trovare degli stabilimenti che hanno importanza al discorso ambiente e che devono essere tra cui bene la vita. Complimenti. Grazie. Luca, buon inizio. Allora, sì, no, farvi dare il momento che dice.